Olè, 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 olè! Il grande campione è la Juve! No, Inter! Bu, Inter, bu, Inter! No, fu, Juve, Juve! No, 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 no! Milano, Juve, ACM, Milano! ACM? Milano, Milano! Tu cosa c'hai? Juve, fu, Juve! No, 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 no! Guarda loro, giocano a calcio! No, Milano! No, ecco, arriva un giro! No, Milano! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Chi di voi è appassionato di calcio? Abbiamo uova di Pasqua! Sì, tu quale c'hai? De la Juventus! Vuoi vedere cosa c'è scritto? De la Juventus! Con sorpresa! Da Balocco! Cioccolato finissimo al latte! Allora, ma io ne ho un'altra cosa! Io ne ho! Inter! Inter sempre! Uovo di cioccolato al latte finissimo! Un regalo per te! Una fantastica sorpresa ufficiale! Grande concorso! Voglio mangiarlo io! Grande concorso! E qui cosa abbiamo? Uovo di cioccolato al latte finissimo! Un regalo per te! Una fantastica sorpresa ufficiale! Grande concorso! È sempre la stessa cosa! Vinci una giornata da super tifoso! Chi vuole andare sul campo sportivo? Io! Al stadio! Al stadio! Al stadio! E cosa urlare lì? Iuwe! 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 Allora! Fa schifo! Oh Alex! Tu non puoi mangiare gli cioccolati! Guardate Alex! Guardate ho perso un dente! Fai vedere! Fai vedere! Ecco! Alex senza dintino! No! No questo noi ieri sera abbiamo ridicato! Alex mi è venuto e mi è venuto e mi è dato una botta! Ah così! E un dente è saltato! No no no! Scherziamo! 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 Che è caduto da solo! Noi abbiamo cambiato con quanto? 2 euro! io andro la Juve, guarda lo mangio Juve è più bello, apriamo in finale, ok? prima apriamo questo qua che fanno buu che buu, guardate come bella coperta questa qui come un regalo oh la catena Alex, guarda io nella catena vi piace? allora, ecco, è aperto, guarda Alex sposta, sposta Juve, sposta Juve ecco, guardate i bambini ecco, ecco, ecco mi piace a voi e piace i avuti cioccolato? cosa tu, cosa tu, cosa tu Alex, tu sei con Juve, allora tu sei contro di me, sì? sì, allora ti rogo no, prova a fare con la testa a te ti piace giocare a pallone? tu ogni tanto facevi così non sei riuscito no, prova a fare con l'altra volta allora, bambini guardate bene ancora? ecco, bravo la pala la pala, abbiamo trovato la pala la pala di neve no, la pala di cosa una pala, una pala una pala oh, gommosa Alex, guarda che bello una pala di chi? di ACM sì, di questa, proprio di questa squadra guardate che bello c'è pure un segno dal 1899 bravo, tieni Alex guarda la Juve oh Juve pom, pom, pom gol 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 oh peo peo macho, fai così Alex hop 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 ah no, guarda no, no no no, aspere, aspere no, Alex, no, no mangia chocolate mamma mia oh 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 tieni, provo, provo a fare te così no, guarda con il mio cioccolato come faccio come? casinista casinista oh si può mangiare pure così allora questo è stato uova uova volete scoprire cosa c'è? un secondo uova di inter forza inter forza inter forza inter forza inter forza 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 inter inter ecco ecco ci siamo arrivati io penso che c'è la pallina sì allora secondo voi oh è questo già vediamo uova inter mi ha fatto il mio uova uova l'uova è il tuo uova l'uova uova l'uova 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 a me sembra l'uova 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 non lo sai? e tu non lo sai? vedete bambini provate con il naso con il naso? no vuoi tutto l'uova in sangue? no allora dobbiamo scoprire come dobbiamo spaccare questo uo allora io pongo con pollici con pollici va bene proviamo se Alex ti spaccherà prova prova no ancora? oh così con il pello più forte no no ecco abbiamo bucato guardateci c'è un buco Alex ho fatto un buco un altro dai prova ancora aia 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 sei forte Alex no si spaga così guardate siamo noi siamo noi siamo noi campioni di Italia siamo noi iiii 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 Alex mamma mia io dovevo concentrarsi prima wow avete visto che botta era ah guardate ho tutto pezzi io ho la testatura non ho fatto niente bambini guardate mamma mia che botta che botta cosa abbiamo qua cosa io tuo tuo noi abbiamo qui hai vinto una giornata da super tifoso urrà abbiamo vinto andiamo in stadio ha 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 abbiamo vinto due biletti Alex allora nel prossimo episodio non con Alex saremo su già campione mondiale d'Inter di Inter e urliamo Inter! No, di Juve! No, di Juve, di Inter! Di Inter! Allora io mangio un pezzettino. Mangia un pezzettino. Allora, e apriamo un altro palloncino di Inter! Inter! Bello questo! Alex, che fai? Guarda mia! Alex! Niamma, niamma! Niamma, niamma! Niamma, niamma! Allora, questo ovo via! Sì? Questo ovo via! Perché adesso iniziamo a aprire il Juve! Quello ovo di Juve! Di Super Alex! No, di Juve! Di Juve Alex! Sì! Juve Alex! Juventus! Secondo voi cosa sarà qui dentro? Io non so! Il trofeo! Quale trofeo? Di Juve! Trofeo di Juve? Sì! Una testa di qualche altro cacciatore da Roma? No! No! Di Shevchenko? No! Il quaderno di Juve! No! Qui non c'è il quaderno di Juve! Ma così! Sì! Allora ragazzi! Apriamo questo ovo! Sì? Tu come si puoi spagare? Sempre con la testa mia! No! No! Così guarda! Come io! Oh! Sapete come si può fare? Si può fare! Buttare così in su e dopo fare così quando cade cade BAM! Allora fai lo te! Faccio io! Va bene! Allora! Apriamo! Apriamo! Juve! No! Bambini! Sto scherzando! Non lo sapete perché? Perché Juve! Alex vuole aprire e mangiare da solo senza di me! Da solo! Fai video! Sì sì sì! È vero! Però guardate bambini! Juve! Noi apriamo domani! Guardate! Iscrivetevi i commenti! E ci vediamo domani! Qui! Iscrivetevi! Qui! Guardate i nostri nuovi video! Noi con Alex vi salutiamo! E ricordatevi che noi apriremo questo uovo! Ciao a tutti!